Hello hello bonitosi ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi ti elencherò 5 errori che possibilmente stai facendo che compromettono seriamente la salute dei tuoi capelli ovviamente sapendo cosa li danneggi potrai smettere subito di farle e questo video è un speciale per tutti i tipi di capelli, non solo per i capelli ricci quindi se hai un'amica con qualsiasi problema di capelli mostra questo video alla tua amica, condividilo con la tua mamma, nonna, zia, cugino, sorella, vicino, lontana tutti i tuoi amici e invitali per far parte di questo gruppo di ragazze vanitose e ovviamente se non sei ancora iscritta, scriviti anche tu io sono Brigida Ferracini e partiamo subito con il primo errore che possibilmente state facendo il primo errore è quello di comprare un shampoo per tutta la famiglia un individuo e ogni capello ha delle necessità diverse alcuni capelli sono più sensibili, altri più spessi un shampoo troppo aggressivo per i capelli ricci può seccare tantissimo e lasciare l'effetto palia e per i capelli ricci può farti diventare la cute super grassa quindi è bene identificare una tipologia di capello e le necessità dei tuoi capelli e comprare un shampoo specifico che fa per te e non per tutta la famiglia il secondo errore è che può capitare specialmente adesso in estate è lasciare del cloro sui capelli il cloro danneggia tantissimo i capelli li secca, li fa incrispare, indebolisce i capelli quindi è bene fare attenzione e dopo una bella giornata in piscina lavare bene i capelli per togliere tutti i residui di cloro e la cosa perfetta sarebbe fare un ultimo risciacquo con un'acqua minerale sì esatto, quella che usiamo per bere e idratarci sempre legato con la piscina sta l'errore di non proteggere i capelli dovete proteggere i vostri capelli quando vi sparrete al sole ci sono creme e spray apposita con la protezione UV per proteggere i capelli metodi alternativi sono il capellino condividi il capellone da mare e i turbanti che sono i miei preferiti e a proposito vi lascerò qua nei card un video che ho fatto con vari intrecci di turbanti super esotici per se nel caso volete provare un raccolto molto stretto può danneggiare, spezzare i capelli o addirittura strapparlo dalla radice e non vogliamo perdere i capelli quindi attenzione ai raccolti troppo estretti sia durante la giornata ma anche durante il sono un'altra cosa da tenere presente è non raccogliere mai i capelli da bagnati guarda chi è arrivata di nuovo la mia principessa questa volta non abbiamo ancora finito oh mio dio parlando di capelli e i tuoi sono meravigliosi hey follow me allora vi elencheremo l'ultimo errore insieme l'ultimo errore di questo video ovviamente perché poi ci sono tantissimi errori fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete un altro video con altri 5 errori comunque un errore che danneggia tantissimo i capelli è piastrare i capelli umidi sai quando li asciuga i capelli però c'è ancora la radice un po' fredda ecco questa leggera umidità insieme alla piastra può letteralmente bruciare i vostri capelli per motivi ovvi tanti ancora commetono questo errore pensando che alla fine non succederà niente ma succede fidati che succede facciamo un gioco se sei arrivata fino a questo punto commenta con questo emoji e vi invito anche a seguirci su instagram e chiocciolaragazza.voanitosa noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao